Anna, tu sei nata per fare l'influencer! I soldi spicci ritornano al cinema. Il tuo smartphone deve diventare il tuo lavoro. Ti svegli con lui, mangi con lui e dormi con lui. Oggi vi racconto di come il fenomeno di Anna Andrea Vitrano sia ormai fuori controllo. Ma sei perfa! Da oggi sui social vi voglio tutti più cornadura. Hashtag senza filtri. Un mondo sotto social dal 15 settembre al cinema. Grazie per la visione!